Presidente! Presidente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie alla brigata, grazie. Un grosso applauso alla brigata. Sono chiari? Il Pagero World, sapere il tuo cuore mai per il Pagero. Grazie e un augurio grandissimo per la sua attività. Grazie. 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 Tutte le cose burocratiche se le è pappate lei, se le è pappate, per cui grazie, poi stasera la parte. Ecco, qualche cosa la parte, stasera la parte. Ciao, felici, ora stasera. Abbiamo una specie, Giorgia simbolica torna a Lorento. E' un grosso applauso. Quello che mi fa via contento, che ho visto che c'è venuta tanta gente, vuol dire che hanno apprezzato le mie fatiche. Nel pasto officina, vuol dire che lui, ti va? Sono un ragazzo bravo. Dici che sono un ragazzo bravo. Sei il punto d'incontro. Punto di incontro? No, ecco, sono il punto d'incontro di tanti amici. Vorrei sapere un bar, via. Io direi che è un pregotta verso. Beh, c'è un pregotta verso, dice, va bene. È un po' presciutello che ha i capelli bianchi. E va bene. Grazie a tutti, grazie. Grazie a te, Lorento. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Grazie.